La seconda settimana della Vuelta Espagna 2023 si apre con l'unica cronometro individuale di questa edizione e arriviamo a questa seconda settimana con Sepkos in rosso per la Jumbo Visma di Primoz Roglic e Jonas Vingegord che ha messo pressione su tutte le altre squadre per i primi nove giorni di gara ma Remco e Venepul che oggi potrà sfoggiare per la prima volta la sua nuova divisa di campione del mondo a cronometro ha risposto bene ed avanti in classifica a Roglic e Vingegord. Due minuti e ventidue invece da recuperare dall'americano che a cronometro non ha mai dovuto performare nei Grand Tour nella sua carriera solitamente le prende come tappe di passaggio oggi invece avrà per la prima volta il compito di dare tutto quanto sui 25,8 chilometri del circuito di Valladolid con una salita iniziale ma globalmente quasi del tutto piatti e una crono da specialisti puri come Stefan Bisseger che si isse al primo posto prima della partenza del favorito numero uno insieme allo stesso Venepul il secondo al campionato mondiale Filippo Ganna con la sua maglia di campione nazionale ha qualcosa da vendicare nei confronti del belga e strapperà un tempo veramente spaziale. 56 all'ora per Filippo Ganna a Valladolid per la precisione 55,986. 27,39 il tempo che sarà quasi impossibile da battere per chiunque altro. I primi a scendere sotto il minuto di distacco da Ganna sono Joao Almeida e Aleksandr Vlasov rispettivamente 50 e 52 secondi dall'italiano mentre Jonas Vingegord non offre una delle sue migliori prestazioni a cronometro oggi soffre nel tracciato di Valladolid 1,18 53 mezzo all'ora scuote vistosamente la testa sull'arrivo Jonas Vingegord che in questa volta ancora non ha mai mostrato la propria miglior gamba mentre Primoz Roglic ha fatto vedere già buoni cose ha già vinto una tappa e oggi fa una grandissima prova. Rogla, le crono e la vuelta a Spagna una storia infinita ne ha vinte 4 in carriera. Oggi arriva a 36 secondi da Filippo Ganna 54,8 all'ora un tempo che soddisferà pienamente Primoz Roglic mentre dietro di lui Remco Evenepul parte con l'intenzione di andare a vincere questa cronometro e dare più distacco possibile a tutti. È lui l'unico che può sfidare Ganna per la vittoria di tappa ma perde fin dal primo intermedio. Dirà di aver avuto una piccola fase di sofferenza intorno al decimo minuto poi però sviluppa tutti i suoi cavalli. Nella parte finale batte anche il tempo di Ganna. Remco Evenepul arriva a 16 secondi da Top Ganna che andrà a vincere quindi la tappa e non gli concede la prima vittoria in maglia iridata a cronometro. L'ultimo a partire è Sepkus che alla fine dirà è stata la prima volta che nessuno mi ha sorpassato in una cronometro perché partivo per ultimo ma non è solo quello il motivo. Sepkus ha una gran gamba nonostante una posizione non perfetta e un'abitudine a spingere a dare tutto in questa disciplina molto minore rispetto a quella degli altri uomini di classifica. Oggi Sepkus si difenderà molto molto bene. Lenny Martinez perde 2.29 perderà oggi la maglia bianca in favore di Remco Evenepul mentre Marc Soler fa una gran crono continua la sua vuelta da classifica solo 1.12 di ritardo da Ganna solo un secondo dietro al compagno Aiuso mentre la grande curiosità è per il tempo di Sepkus che perde solo 1.29 dall'italiano e si salva mantiene la propria maglia roca sia nei confronti di Soler che in quelli di Evenepul mentre Filippo Ganna vince la prima tappa in carriera alla Vuelta in Spagna la accompagnerà alle sue sei tappe del giro e dopo averci provato in volata da pieno credito alla sua partecipazione a questa Vuelta all'interno di un Grand Tour menagramo per la Ineos Gneadiers Pippo Ganna porta a casa una vittoria di tappa molto importante di fronte al campione del mondo. Sepkus è il protagonista invece della classifica generale perché mantiene appunto ancora il primato Remco Evenepul non sarà felicissimo della sua crono. I distacchi ci sono ma forse potevano essere qualcosina in più molto bene Primoz Roglic molto bene Sepkus meno bene Jonas Vingegord questa è la nuova classifica generale con Soler a 26 secondi da Kus Evenepul a 1.09 mentre Jonas Vingegord in questo momento dista un minuto e 13 in classifica generale da Remco Evenepul Roglic invece a solo 27 secondi dal belga ma in questa Vuelta sostanzialmente si è appena iniziato a fare sul serio le tappe più importanti devono ancora arrivare tutte domani come abbiamo appena visto in grafica c'è un unipuerto vale a dire una sola salita finale dopo una lunga attesa venerdì c'è il tappone il turmalè oggi Pippo Ganna ha vinto la sua prima crono alla Vuelta in Spagna Sepkus rimane in maglia rossa e noi ci vediamo domani